Con il rinnova plastica bianca di Black Traction è facile, veloce e soprattutto conveniente rinnovare comodamente a casa vostra le parti di condizionatori o stampanti e accessori invecchiate e ingiallite. Il prodotto si applica con una spugnetta leggermente abrasiva o con della lana d'acciaio fina ad una buona temperatura ambiente per potenziarne le caratteristiche sgrassanti ed avere la massima efficacia nell'estrarre lo sporco o gli oli solidificati fuoriusciti che determinano l'ingiallimento. Si aumenta un po' alla volta la pressione fino a quando non si vede il liquido sporcarsi degli oli solidificati e poi si asportano subito con un panno pulito. La finitura è subito idrorepellente e protettiva dall'assorbimento di agenti macchianti. Di lunga durata d'effetto è rinnovabile alla necessità. Forse un risultato simile si potrebbe ottenere anche con qualche altro prodotto, però poi le superfici rimarrebbero impoverite e ancora più esposte all'assorbimento di agenti macchianti. Grazie per la visione!